come vi avevo detto tanti progetti questo anno nel 2022 c'è tanta tanta carne al fuoco fa veramente piacere vedere che tutto quello che sto progettando sta collimando e che le cose che mi sono promesso di fare stanno piano piano prendendo la loro forma finale a marzo spero di completare un progetto quello più importante ed aprile un altro entro giugno il terzo ma poi il quarto forse agosto ma vi dico tutto quanto quello che sta succedendo subito dopo la sigla ciao bentornato sul canale come sempre sono pasquale questo è io risparmio il canale il tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto nel video di oggi ti voglio andare a fornire un velocissimo aggiornamento sui miei progetti secreti che vedo con molto piacere che si stanno concretizzando pian piano in tempistiche piuttosto veloci rispetto a quello che mi ero proposto un poco prima di progettarle non ti voglio andare a dire il nome di ogni singolo progetto fino a quando non sia stato completamente portato a termine ma visto che le cose stanno andando spedite come la mia voce in questo video e sono tutte in fase praticamente di completo avanzamento volevo darti delle date precise dirti dove mi trovo con ogni singolo progetto anche dandoti le priorità che mi ho proposto per ogni singolo progetto e anche quanto presumo di andarci a guadagnare ovviamente per farti fare i beati fatti miei partiamo dal primo il primo progetto quello che mi sono dato come principale che mi ero dato da finire entro fine febbraio dovrei essere in grado addirittura di concretizzarlo una settimana prima della conclusione del mese di febbraio posso dire che questo è il progetto tra virgolette sovrano il progetto cappello e che al momento si trova oltre al 90 per cento delle cose necessarie da completare per concluderlo per cui già nella prima settimana di marzo sarò sicuramente in grado spero di mettervi al corrente su cosa sia su perché l'ho fatto ed anche a portarvi passo passo su quelli che sono stati i vari passaggi vari step e di costi sostenuti voglio essere totalmente trasparente in tutto questo sia io che mia moglie siamo completamente coinvolti in questo step fondamentale il progetto secondo noi potrebbe portare dopo i primi tre anni di diciamo di inizio un extra reddito stimabile intorno ai 15.000 euro lordi alle tasse su base anno qui si parla di una rendita semi passiva il secondo progetto potrebbe essere concluso entro la fine di aprile per quanto riguarda il secondo progetto si trova più o meno al 70 per cento circa di avanzamento ed è totalmente portato avanti da mia moglie che si sta facendo veramente in quattro per portarlo a termine nei tempi necessari considerando anche che fa la mamma a full time dovrebbe essere in grado una volta di completato di diversificare molto le nostre fonti di reddito questo significa portare avanti un progetto che sia totalmente distaccato da quella che è la tematica di youtube dei link affiliati delle collaborazioni e così via e che per cui ci distacchi fortemente dalle eventuali problematiche di legarsi a una singola forma di reddito sì certo ovviamente abbiamo i nostri stipendi quelli da dipendente ma qui non mi riferisco a quello che lo stipendio da dipendente ma tutto quello che non sia correlato al lavoro fisso abbiamo stimato che nei prossimi anni fa tre anni circa questa fonte di reddito possa fornire un extra che oscilla fra i 15 e 20 mila euro lordi anni anche qui si va a parlare di una rendita semi passiva il terzo progetto invece completamente gestito da me sono un pochino indietro con questo progetto ma credo di poter velocizzare da marzo in poi per alcune situazioni che adesso non sto qui diciamo ad approfondire che potrebbero però lasciarmi molto più tempo a disposizione ma addirittura per alcune settimane per il completo completamente scusate il gioco di parole appunto entro aprile maggio di tutto qui sono fermo da alcuni mesi al 70 75 per cento di avanzamento la cosa bella del terzo progetto che una volta portato a termine sarà una rendita completamente passiva e infatti col fatto che una volta completato non mi prenderà più molto tempo sarà sicuramente una base su cui costruire altre fonti di reddito comunque altri progetti da qui non stimiamo di avere grossi guadagni su base annua ma sicuramente un extra dovrebbe arrivare e lo abbiamo stimato attorno ai 5000 euro lordi su base annua poco rispetto a tutti gli altri ma come direbbe il boom vecchio elio di elio le solite se non è una bruschetta in un occhio devo spingere per completare questo progetto il terzo progetto avere più tempo da dedicare al quarto progetto che quello lasciato forse più a se stesso il quarto progetto è curato totalmente da me anche se avrei avrò e ho necessità di un aiuto molto importante anche da parte di mia moglie e siccome fino ad aprile siamo impegnati entrambi nei tre progetti che ho appena citato pensiamo di poter completare tutto questo quarto progetto entro la fine di agosto e di lanciare diciamo quello che è il business legato a settembre al momento sono a circa un 10 per cento di avanzamento e spero di avanzare a marzo aprile e maggio fino ad arrivare ad almeno un 50 per cento del 50 per cento del completamento e poi andare a completare come ho detto prima tutto entro fine agosto questo progetto questo quarto progetto ha forti prospettive di crescita e stiamo puntando moltissimo su di esso sarà veramente un mega impegno un mega progetto che dovrebbe e potrebbe far fare il salto di qualità in termini di crescita tutto quello che diciamo questa attività del fatturato e della qualità anche dei contenuti legati una volta completato sarà completamente di natura passiva totalmente abbiamo preventivato di poter arrivare tra tre anni circa attorno ai 30.000 euro lordi su base annua per cui sarà un progetto importantissimo per noi da completare e va fatto per bene in ogni progetto detto dopo i tre anni perché all'inizio come si ben sa quando si creano delle nuove attività si vanno sempre incontrare magari delle spese impreviste delle tasse non contemplate in questo paese o altre situazioni che di cui non si ha conoscenze possono rallentare la crescita di una qualsiasi attività un po come quando si costituisce una nuova azienda ci si trova a pagare magari spese per i due tre anni e poi cominciare a fare profitto dopo il periodo infantile il periodo di partenza bene spero che questo brevissimo aggiornamento possa farti capire quanto sono malato mentalmente per la pianificazione delle cose e del tempo non so se ricordi il video che ho fatto su come organizzo o risparmio da regolette il mio tempo ho problemi mentali lo so ma sono fatto così io sono il tipo schizofenico che se trovo una tazzina fuori posto la prende la rimette a posto cioè malato proprio fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto sulla mia pianificazione se effettivamente sono un malato di eccessiva organizzazione delle cose come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollicione in su per l'algoritmo youtube che ha tanta fame e sete di questo pollicione e se sei nuovo sul canale ti chiedo ovviamente di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così tu non possa perderti nessun contenuto pubblicato successivamente anche per oggi tutti noi ci vediamo un prossimo video domani ciao Musica 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 Grazie per la visione!